Finsieme sono tutti i figli di Clemente e il nonno di Secco Renzo che è un fratello. Io ero tre fratello, da una forna a voi ero tre fratello. Dopo Stember ero mappiato. L'antimano ero mappiato. Sono stata così, un momento, sì. Scusami sono andata a Stefano Masa, ma ero più giurinca anche lì. E dopo sono mappiato al negozio, sì. Ah ecco, per alcuni tipi non vedi sì. Da Oreste, avevo un anno una lira per cent mila la bottega. Da Oreste e Franco? Cosa ho l'occhialo prima. Io ho mantenuto i crimini, ho venduto e ho pagato i soldi per pagare la bottega. E ora è stato bravo. Io ero al primo amico un anno. Come fratello. Io ho capito. E lì alla fornosa a chi è Stauro? Lì alla fornosa stavano la mamma mio. Ancora? Stavano la mamma mio, Franco, Ernesto, Terenzio e lui con la nonina. Ah ecco. C'erano quattro mili. Capito. Già un po' di lunga. la nonnina a Sarislastò la mamma di Nando che Clemente li ha già più nè, li ha già morti no, un po' di scampare io l'havia 82 anni quando non si sposasse e dopo è morta in 92 costa 10 anni un po' stava lì qui un po' un po' si un po' e dopo ho invitato a dare la sua sorella la mia sorella è nata la sorella è nata la nonnina e ayer la tali ayer era Fumlet Clemente Fumlet Clemente e quindi hai posto qui insieme a questa foto Chi resta? Chi resta? Pasqualina Pasqualina e sei nandoci e e lo dubito Pasqualina è è Clemente capito e chi l'ha ti si sono statuti via dalla Fornosa la Fornosa quindi li ha mappisti lì dopo è morta Ernesto dalla Fornosa poi noi siamo nè via e chi l'ha costata l'anno lì l'ha costata un bel po' poi è morta Ernesto poi è morta Mabil poi è morta adesso neanche prima o dopo ecco il papì Francesco Costava Dogliani Cento Costava Lecchio Giacinto invece? San Micè e chi è a Stauro San Micè? la mamma Giulio Laurina ecco lì la mamma Giulio Laurina Michele e Placido quella lì che è ancora a Mondo sì la la suocera di Silvano ecco lì è una nostra famiglia un è il fio di un secco chi è? Giacinto ah ecco è Giacinto è Giacinto così Giacinto ma lì sotto vi è scritto sì è costata eccolo è costata Giacinto Giacinto è costata è costata è costata ho messo ecco qua è costata è costata è costata ecco ecco e ma lì aveva usato bisogno e lì sotto non riesce a risolvere ma a me che conosceva bene non c'è è costata sì ho visto anche qui è poi Carmela è questo ci davanti è ma dove avevo scritto E io so che sono tutti inscritti. Ma è Carmela e Terenzio, Ernesto e Nando. Fernando scrive Ernesto e Vito. No, no, Ernesto e Gusto. Non sbagliamo, sì, sì, non sbagliamo. Vito che a me non conoscevo. Allora, che corregio.